Però per loro tu fai videoporno col tuo fidanzato, quindi devi fare qualsiasi cosa. Non hanno un limite di richieste, tu inizi a dargli una mano, vogliono il braccio, vogliono tutto. Quindi noi cerchiamo comunque di dare un limite, cioè di far capire che un limite c'è, perché alla fine noi siamo persone. Come si inizia, diciamo, a fare questo tipo di mestiere? Da cosa parte l'idea? Soprattutto la vostra esperienza. Allora, noi siamo partiti che... No, noi eravamo chiusi in casa. Era durante la seconda pandemia, diciamo la seconda tranche. Sì. Eravamo a casa, quindi probabilmente per una serie di fattori che sono venuti a sosseguirsi insieme, ci stavamo annoiando. Perché eravamo sempre chiusi in casa, perché non si poteva uscire. E io e lui, anche se non stavamo insieme da tantissimo, in quel periodo breve, pre-pandemia in cui eravamo stati insieme, uscivamo spesso. Siamo entrambi due persone a cui non piace la classica coppia monotona, che fa tutti i giorni le stesse cose in tutti gli ambiti. Quindi diciamo che un po' di sofferenza c'era. Quindi diciamo l'ambito economico non c'entrava in nessun caso all'inizio, anche perché non sapevamo neanche dell'esistenza né di OnlyFans, né che si potesse monetizzare attraverso, diciamo, il porno. Quindi eravamo a casa, abbiamo fatto una scommessa perché io ho perso una partita di LOL, League of Legends, quindi stavamo giocando al PC. Io ho perso sta partita, lui aveva detto, se perdi, carichiamo un video su Pornhub. Ah, così? Prima cosa? Ho rischiato una testata, però... E se vincevo io non mi ricordo, succede qualcosa, tipo che lui doveva farmi i grattini, qualcosa del genere. L'hai persa? L'ho persa, e io gli ho detto, vabbè, va bene. Tanto era un video molto breve, in cui non ci si vedeva neanche in viso, però c'era questa cosa di caricarlo che mi sentivo dentro io dopo un po', questa sorta di trasgressione. Trasgressione dalla routine, trasgressione da una cosa che non avevi mai fatto, trasgressione da oddio se qualcuno mi scopre. E questo ha fatto sì, diciamo, che questa cosa ci piacesse. Ma c'è anche una perversione del fatto di essere... cioè fa parte di una perversione essere filmati, il fatto di caricarlo magari online, crea... Sì, cioè... diciamo che era un mio desiderio, io sono molto perverso. Ok. Lei era, diciamo, lei è cambiata man mano con il percorso che abbiamo fatto, lei era tutt'altra persona prima. Si creava problemi per il giudizio delle persone, non era sicura di se stessa, poi comunque anche con tutto il percorso che abbiamo fatto poi è cambiata completamente. Invece io sono sempre rimasto menefreghista e... non so, a me piace far tutto. Certo. Mi piace sperimentare, ecco. Quindi voi iniziate e pubblicate il primo video in modo anonimo, quindi filmandovi ma senza farvi vedere. Con già il nickname di Shiraten 698. Ok. Perché questo nome? Piccolo... Perché durante la pandemia abbiamo guardato Naruto, noi amiamo tantissimo gli anime... Ok, io no, quindi perdonate l'ignoranza. Eccetera. E il nome quindi viene da Naruto. Ok. Poi quel periodo lì stavamo anche ascoltando una canzone particolare e non sapevamo assolutamente che nome darci. Quindi abbiamo messo Shiraten 698. Che nome è un po' particolare. È una tecnica, è un jutsu. Quindi continuiamo, voi pubblicate il primo video, magari i primi video in modo anonimo. E poi come si evolve questa cosa qua? Allora, praticamente abbiamo caricato il primo video che era abbastanza... Cioè tutti i primi video erano brutti. Perché li facevamo comunque con un telefono di bassa qualità. Ok. E facevamo video di 30 secondi, un minuto e mezzo. Ah, così brevi? Sì, sì, sì. Comunque dei video brevissimi. Però io sono una persona che ragiona molto sulle cose e dopo aver caricato il primo video ho detto, cavolo, in una sera ho fatto 6 euro. Io 6 euro li facevo in 40 minuti di lavoro e dicevo, cavolo. Perché appunto abbiamo... quando fai l'iscrizione come model program, tu accetti le pubblicità, monetizzi, diciamo, con le visualizzazioni. Aspetta, su che piattaforma stiamo parlando? Su Pornhub. Pornhub. Avete iniziato su Pornhub. Sì, sì, sì. Quindi questi 6 euro fatti nel giro di una settimana sono stati fatti dalle visualizzazioni. Ok. Al che, appunto, come diceva Matteo, l'ho iniziato molto a interessarsi su come funzionasse il sito. Ok, quindi iniziate, diciamo, a capire come questa cosa qua può diventare un piccolo extra. Sì, diciamo di sì. Però principalmente l'abbiamo fatto perché comunque siamo entrati in quel loop infinito che dicevamo, dai, facciamolo un altro, facciamolo un altro così, facciamolo, sai, il piacere di farlo, no? Certo. Avevamo tantissime idee, volevamo sempre portarne qualcosa diversa, fare qualcosa di strano. È andato come un gioco di coppia, possiamo dire così. Sì, sì, poi conta che eravamo comunque sempre chiusi in casa, quindi per noi farli non era neanche pesante, tanto eravamo lì. Cioè lui andava a lavorare lo stesso perché lavorando al supermercato, il supermercato non ha mai chiuso. Sì, con 6 euro a settimana non si poteva ancora vivere. No, no, purtroppo no. Io avevo perso il lavoro, cioè più o meno chiamolo lavoro, nel senso io lavoravo come cameriera, quindi chiaramente con tutti i lockdown sono stata tagliata fuori. Certo. Quindi ovviamente il mio pensiero non è stato quello del riscontro economico, neanche quello di Matteo. Però sai, è forse il fatto di macinare visualizzazione, vedere che tante persone ti stanno vedendo. Quindi tu già stai facendo una cosa un po' perversa, un po' trasgressiva. In più vedi che alle persone piace quello che stai facendo, vedi che tante persone guardano quello che stai facendo e questo secondo me ti invoglia a farne un altro e un altro. Certo, il meccanismo della popolarità, comunque vedere che piace quello che stai portando, che ti porta. Esatto, sì sì sì. E poi come decidete? Arriviamo al momento della decisione di mostrarvi, quindi diciamo metterci la faccia in quello che fate. Qual è una cosa abbastanza recente? Perché noi abbiamo sempre, cioè diciamo su... Allora, a dicembre di due anni fa abbiamo aperto Instagram, perché Matteo appunto mi dice guarda che Instagram è una piattaforma dove ti vedono tutti, è giusto che le persone devono poterti trovare, devono poterci vedere, e io no, non lo voglio fare, eccetera, eccetera. Vabbè, alla fine... Era la vetrina più grossa che c'era, alla fine. E poi tante persone ci chiedevano se avevamo dei social, chiaramente, perché la prima persona, cioè la prima cosa che una persona va a cercare su una persona sono se è sui social. Certo. Quindi successivamente dopo Instagram, dopo qualche mese, le persone ci chiedevano questa fatidica domanda, avete OnlyFans? E noi dopo che ce l'ha chiesto una persona, due, tre, quattro, cinque, ho detto, ma andiamo a vedere cos'è sta cosa magica. Voi non lo conoscevate? No, no. Cioè, io sapevo cos'era perché tante, diciamo, influencer che seguivo sapevo che lo utilizzavano. Quindi più o meno mi ero fatta un'idea di che cosa potesse essere. Però sai da sapere che cos'è a gestirlo, è una cosa molto diversa. Molto. Quindi abbiamo iniziato proprio sul febbraio, forse un po' meno, gennaio-febbraio abbiamo iniziato con OnlyFans. E dopo un po', diciamo, io ho deciso di togliermi la maschera solo su OnlyFans. Ok, perché tu inizialmente registravate, quindi inquadrandovi la faccia, ma mascherati. O mascherati o proprio tagliando il viso. Ok, tagliando il viso. Quindi iniziate, quindi viene prima OnlyFans di Instagram. No, è arrivato prima Instagram e poi è arrivato OnlyFans. Però Instagram era sempre in modo anonimo, quindi. Sì, sì. Ok, e quindi i video invece su OnlyFans iniziate a farli, diciamo, a viso scoperto. Sì, così anche le persone erano più motivate ad abbonarsi. Ma questo per voi, diciamo, rimanere scoperti su OnlyFans rimane una cosa molto legata a OnlyFans, quindi non vi sentite ancora aperti al mondo in quello che fate? No, perché come ti dicevo appunto, io stavo finendo l'università, quindi le mie prospettive lavorative erano altre. E sia io che lui sappiamo, come diciamo spesso anche a tante persone che ci chiedono e che vogliono entrare nel giro, metterci la faccia facendo determinati contenuti, non puoi pensare che poi non vada a influire nel tuo futuro, perché la prima cosa che fanno tantissime aziende è proprio andare sui tuoi social network, quindi anche solo di avere dei video in giro. Però io non ho tatuaggi, non ho piercing, tolto il mio viso, cioè potrei essere la qualsiasi. Però una volta messo su OnlyFans, lì già è una scelta? Sì, lì sì, ma perché appunto tantissime persone volevano vedermi in viso, ovviamente, e Matteo mi diceva, vabbè, ma tu cosa, non ti devi mica nascondere? Poi comunque OnlyFans rimaneva una cosa un po' più privata, invogliava anche le persone ad arrivare sul profilo. Diciamo che io ci credevo anche già un po' di più fin da subito, perché comunque noi quando abbiamo aperto già OnlyFans, il primo mese, ok, abbiamo iniziato verso la fine del mese, abbiamo guadagnato poco, però già quello successivo abbiamo già guadagnato comunque quasi un tuo stipendio da barista. No, senza quasi. Uno stipendio da barista. Il mese e quello successivo già il doppio di uno stipendio da barista. Poi nella pratica vi espone essere, diciamo, visibili su OnlyFans in viso o rimane ancora una cosa che voi, diciamo, tenete per voi, la mettete solo su OnlyFans, ma non lo dite, diciamo, alle persone che conoscete? No, non lo sapeva nessuno. È una cosa che abbiamo ottenuto per noi per più di un anno, perché comunque alla fine, essendoci anche la pandemia, noi uscivamo molto poco. Io in realtà vivevo a casa sua, perché avevo scelto di rimanere da lui, anche perché se no non avrei neanche potuto vederlo per tipo sei mesi. Cioè, allucinante. Quindi io ero rimasta da lui, perciò i miei familiari li vedevo anche poco. Li sentivo ogni tanto. Per me era facile anche nasconderlo. Ha iniziato a diventare un po' meno facile quando gli incassi comunque entravano. Noi abbiamo iniziato poi nell'estate a... Io non ti dico, io non sono una che si compra la borsa di Prada, perché secondo me sono cose assolutamente inutili. Però la cena fuori, la vacanza, queste cose qui, che dopo un po' anche una... Cioè, ci chiedevano. Faccevano storcere al naso. Sì, sì, sì. Ebbè, giustamente dicevano. Quindi è iniziato così, nel senso, i sospetti sono arrivati per i compensi che ricevevate. Sì, però non ci hanno mai detto niente. Ok. Diciamo che si sono fatti qualche domanda, però ce l'hanno detto solo quando, poi gliel'abbiamo detto. Ok. Di Olifansi e tutto il resto. Quindi una domanda. dire, diciamo, ai familiari, gli amici, le persone che conoscete, che volete fare quella cosa là. Cosa comporta a livello sociale? Ma anche con le persone magari del paese, comunque i vicini di casa. Cosa comporta? Quali sono gli effetti? Allora, noi abbiamo visto un cambiamento atroce dopo che siamo andati sui giornali, soprattutto sul giornale della nostra città, Varese News, perché abbiamo visto, cioè, un cambiamento gigantesco alla fine. Allora, diciamo che finché la cosa era rimasta privata, cioè, io l'ho detto ai miei, la prima persona a cui l'abbiamo detto in realtà è stato mio fratello, perché io ho un bellissimo rapporto con mio fratello, lui ha solo due anni meno di me, e ha capito subitissimo, cioè, non... e cioè mi ha fatto i complimenti per dirti, abbiamo quel tipo di rapporto. Nella mia famiglia non c'è mai stato, tra l'altro, un tabù sul... cioè, sul sesso. Non è che non avevi mai parlato di sesso con i tuoi? No, 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 anzi, cioè, il contrario. Ok. Mia mamma e miei hanno sempre cercato di farmi più... diciamo, di farmi conoscere tutto il mondo. Chiaramente non in modo proprio esplicito, però... Sì, o volgare. Io potevo parlare tranquillamente dei miei problemi, anche da quel punto di vista. Ok. Poi, dopo, lui l'ha detto a suo padre. Sì, per me è stata molto più semplice. Io gli l'ho detto a mio padre, lui si è messo un attimo a ridere, non ci credeva, poi alla fine... gli ho fatto vedere, alla fine. Però vabbè, sono diventato un po' un idolo, sai, dalla parte del maschio, dalla parte di mio zio, mio padre. Ok. Mia madre, invece, ha avuto un po' da ridire, però io sono uno molto meno freghista, cioè, così, se non ti va bene... Ok. E invece, fuori dalla vostra bolla di comfort della famiglia, com'è stato? No, i miei amici l'hanno presa benissimo, anche i suoi. Vabbè, ma alla fine, secondo me... È una generazione differente. È una generazione differente e anche uno dei miei amici, quando io l'ho detto, mi fa... Vicky, non mi chiamano Vicky perché mi chiamo Vittoria, è una cosa normalissima, fa non è che stai facendo chissà che cosa, fa anzi, però non pensavo che eravate tipo famosi. Vabbè, lì è successo il tutto quando poi abbiamo deciso di scoprire il viso, perché comunque arrivare... avevamo all'epoca tipo 150.000 follower, quindi su Instagram. Dare un volto ad un utente è comunque una cosa importante, anche non solo su OnlyFans. Però è una cosa abbastanza recente, sarà stato... Aspetta, quando è stato? Febbraio dell'anno scorso. Sarà stato febbraio-marzo dell'anno scorso. Che poi l'abbiamo detto a tutti, quindi abbiamo... E poi il cambiamento è stato, diciamo, delle persone che ci guardavano, che però non ti parlo dei miei amici, ti parlo proprio delle persone in generale, quando siamo andati sul giornale, perché questo giornale qua l'hanno letto tantissime persone. Un articolo bello o brutto? No, 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 bellissimo. Infatti dopo l'articolo di Varese News ci hanno chiamato ovunque, cioè televisioni, Corriere della Sera, tutti quei... Ok, è stata una rampa di lancio in modo positivo. Quello sì. A livello invece, diciamo, interpersonale, comunque i miei sicuramente hanno dovuto affrontare una cosa che non è stata per niente facile per loro, che non mi hanno mai detto, ma io so. Quindi, cioè, tipo, mia mamma lavora in un posto dove passano tantissime persone. Eh sì, ho visto l'articolo di tua figlia e di qua, di là, di su, di giù. Cioè, io... Non me l'hanno detto, ma io ne sono sicura al 100%. Sentirsi gli occhi addosso, magari. Sì. Però sono persone molto intelligenti, i miei genitori, quindi hanno capito. L'unica cosa di cui avevano paura era che, appunto, essendo un po' più conosciuti, che potessero più che altro magari farci del male, darci fastidio, queste cose qui. Si erano preoccupate, diciamo, per quello che potevano farvi. Esatto. Quindi, diciamo che, da quello che mi sembra di capire, è positiva la vostra esperienza con la... diciamo, il coming out al pubblico. Diciamo di sì, c'è andata bene, ma anche con le persone... Cioè, appunto, la mattina dopo l'articolo non ci avevamo neanche pensato dell'articolo. Siamo andati al McDonald's e ci ha riconosciuto il direttore del McDonald's di Varese. Oh, grandi, ma voi siete quelli dell'articolo. Cioè, fa strano, no? Perché poi non si è abituato. Sì. Quindi si è rimasti un attimo lì così, non si pavano neanche cosa rispondergli, no? E anche le settimane successive molta gente ci fermava per una foto, andavamo a mangiare in un ristorante di Varese e ci facevano fare la foto con i camerieri e tutto. E noi non eravamo ancora abituati, però abbiamo visto... cioè, nessuno ci ha mai dato fastidio o robe del genere. Ma no, secondo me, anche perché siamo in tempi un po' diversi. Se fosse successo dieci anni fa, probabilmente avremmo dovuto cambiare nazione. Stiamo parlando di quanti anni fa? Dopo lockdown, quindi 2021, stiamo parlando di questa cosa qua. Sì, l'anno scorso. Sì, l'anno scorso. Però comunque OnlyFans ha spopolato molto negli ultimi anni. Diciamo che il porno, da quello che mi è sembrato di vedere, si è avvicinato molto di più ai social. Diciamo, si è avvicinato molto di più alle persone. Sì. Si è un po' sdoganato il porno. Si sdogana sempre un po' di più. Quindi magari è sempre, soprattutto sempre più facile poter fare questo mestiere senza, diciamo, incorrere a chissà che conseguenze. Sì. Sì, diciamo che è un po' più difficile a livello di social perché mettono molte limitazioni. Poi noi siamo, come dico sempre, siamo stati i primi insieme ad altre persone. Quindi quello ci ha aiutato molto. Perché quando inizi sempre per primo, diciamo che quella è la cosa fondamentale. Conta che noi abbiamo iniziato quando, tra l'altro mi sembra che Pornaba aveva messo anche l'abbonamento gratuito al premium durante la pandemia. Avevamo molte visualizzazioni perché, perché per forza di cose, anche su altri social, secondo me, noi ci mangiamo sempre le mani perché se avessimo iniziato tipo Instagram, diciamo, se avessimo aperto Instagram due anni fa, a quest'ora magari eravamo un milione. perché erano diversi i social. Anche TikTok, io mi ricordo che quando iniziavo un po' a guardarlo durante il lockdown e lì ho visto tante ragazze crescere che adesso hanno su milioni. Perché era quel periodo lì. Era un periodo dove produrre dei contenuti online diciamo che erano molto visti perché le persone utilizzavano molto i social. Sì, perché eravamo tutti a casa. Poi più che altro salivi molto più velocemente. Adesso non sali più sui social. Cioè, è impossibile. E invece dal punto di vista lavorativo per il futuro, cosa comporta questa scelta qua? Cioè, che ragionamento vi siete fatti? Allora, noi abbiamo diciamo iniziato io, ti parlo io perché Matteo appunto diceva di... sapeva già a quanto pare. Quando abbiamo iniziato a fare della... una cifra diciamo consistente ti posso parlare dei primi diecimila. Il primo mese che abbiamo fatto diecimila. In un mese? Sì. Allora gli ho detto ok, allora adesso possiamo pagarci le tasse pagarci una casa mettere anche via dei soldi e la prospettiva di crescita c'era. Perché una volta che una cosa come Holyfans si radica nella mente delle persone che ormai tu avresti mai immaginato dieci anni fa di pagare un abbonamento a Netflix è normale adesso pagare un abbonamento per tutto. È cambiato il sistema di fruizione di qualsiasi cosa. Di qualsiasi contenuto. Quindi la prospettiva di crescita c'era e e niente noi ci siamo buttati più che altro perché io tanto lavoro non ce l'avevo. Quindi non avevo tra virgolette niente da perdere. Io dovevo iniziare ma io ho continuato l'università tranquillamente cercando tanto lavoravo anche prima. Quindi sono sempre stata abituata a lavorare e studiare nello stesso tempo. Anzi in questo in quel momento però potevo anche farlo da casa addirittura quindi era molto più comodo per noi. Quindi quando abbiamo iniziato a fare diciamo queste cifre a quel punto lui poi ha lasciato il lavoro. Sì io ho chiesto prima il part time perché iniziava a essere troppo impegnativo. Certo. E e poi alla fine quando abbiamo iniziato a fare cifre ancora più alte ho detto senti lascia ok cioè ci buttiamo direttamente. Ma anche perché scusami se ti interrompo tu immaginati di lui faceva otto ore di lavoro al giorno circa sette otto ore dopo sette otto ore magari dovevamo fare appunto o contenuti o come ti dicevo noi andavamo sempre in hotel perché non potevamo farlo a casa quindi dopo anche una giornata così ti sei sparato otto ore di lavoro ti devi fare un video o magari le cam devi essere performante poi cioè sì perché lui non è un essere umano però tu immaginate di fare così quasi tutti i giorni tutte le settimane anche io comunque o magari dovevo tipo cenare alle sette perché sapevo che alle nove poi fino a mezzanotte dovevamo lavorare tutti i giorni sabato sera la domenica senza sosta l'abbiamo fatto perché ci piaceva tantissimo perché comunque ci trovavamo bene a farlo e perché vedevamo il risultato davanti ai nostri occhi che se lavoravamo potevamo comunque guadagnarci no? quindi perché non farlo? quindi non ti sto parlando dei magari 4-5 euro l'ora che puoi prendere stiamo parlando di cifre un pochino più alte quindi ti viene anche voglia un po' di più siamo rimasti qui 10.000 euro guadagnati in un mese e voi dopo che avete immagino si è iniziato prima quando avete iniziato a vedere i guadagni come avete gestito la parte fiscale come avete detto ok adesso noi dobbiamo dichiarare queste cose qua ci siamo informati fin da subito perché noi siamo due ragazzi non lo so abbiamo sempre paura che ci bussano dalla sera alla mattina a casa volete dormire tranquilli sì esatto e quindi ci siamo informati abbiamo sentito un po' di commercialisti anche i commercialisti erano un po' lì perché nel senso è un mestiere nuovo non sapevano dove inquadrarti non c'è non c'erano leggi non c'era niente praticamente fin quando poi abbiamo trovato un bravissimo commercialista di Milano che è riuscito subito a inquadrarci e da lì ci ha fatto aprire la partita IVA forfettaria che praticamente è il limite fino a 65.000 euro poi diventa quella individuale dove ti massacrano di tasse praticamente però diciamo noi abbiamo detto subito ma sì ora che arriviamo a 65.000 euro tre mesi ci abbiamo messo praticamente perché i guadagni continuavano a aumentare da 10.000 siamo passati a far 15 il mese dopo poi 20 e poi direttamente a farne 50 perché quando sono usciti gli articoli abbiamo fatto un salto grossissimo quel mese ok e quindi abbiamo detto senti o andiamo all'estero e infatti siamo andati a informarci anche all'estero siamo andati alle Canarie a vedere un po' come era la situazione fiscale e poi però cioè ok in Italia quindi diciamo voi avete la strada della partita IVA forfettare che diciamo che vi permette di comunque di pagare una cifra modesta di tasse e considerazioni riguardo all'estero come le Canarie ma anche Dubai dove so che vanno molte persone purtroppo noi non siamo cioè non ce la faremmo mai cioè siamo da tutt'altra parte del mondo anche a Tenerife si è sempre chiuso dentro un'isola di cui ci vogliono 4 ore di aereo per arrivare allora dovessi pagare veramente non avessi trovato una soluzione avessi dovuto pagare 40-50% di tasse l'avrei fatto se no sarei andato semplicemente in Svizzera ne pagavo il 15 ok quindi vi siete proprio informati sui vari stati ovunque dubai però per esempio dubai è una città dove io non andrei mai a vivere non e poi tra l'altro so che le persone che poi diciamo si spostano da quella parte non hanno poi mai una residenza fissa e quindi questo per noi è non siamo il tipo di persone a cui non piace avere una residenza fissa noi adesso tuttora ci stiamo costruendo casa quindi la residenza fissa la vogliamo eccome qui in Italia sì 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 e poi io ho degli animali e il mio interesse è comunque sempre anche quello io devo poter poi comunque con i nostri parenti e amici non abbiamo avuto nessun tipo di problema quindi non c'era motivo di andarsene non dovete scappare da nessuno da no però quando ho iniziato a sentire la percentuale che dovevamo dare di tasse dice i tavoli quello era lo nessuno sì tipo a partita di vendi individuale praticamente lavori per loro certo cioè noi non ci andava e quindi ci siamo informati abbiamo trovato una soluzione e alla fine abbiamo aperto una società abbiamo aperto la società quindi ora voi avete una società sì una srl sì e questo vi permette diciamo di poter incassare tranquillamente i vostri guadagni sì comunque si pagano le tasse non è che non si pagano no certo assolutamente però non cifre inverosimili avete trovato una soluzione stabile diciamo per poter continuare il vostro lavoro e dormire tranquillamente sì 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 ma anche perché io credo che alla fine andarsene non risolve completamente il problema sì certo a me piace abitare in Italia mi piace questo paese a me piace la mia città perché io tra virgolette gliela devo dare quasi vinta andandomene e invece no io rimango qui tu adesso cioè non 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 vedevamo comunque un reale trovando la soluzione diciamo fiscale non abbiamo trovato un reale motivo per andarcene poi in futuro vedremo non so se dovranno mettere qualche limitazione se a me esisterà la nostra fortuna che io che diciamo sempre è che noi possiamo spostarci da un giorno all'altro e continuare a lavorare tranquillamente è certo sì quindi se dovesse cambiare mai qualcosa qua domani chiude la società l'apre in Svizzera assolutamente non mi cambia nulla ok ripartiamo da mi dite che iniziate a fare i primi guadagni quindi iniziate diciamo anche a costruire una una parte marketing a gestire una delle pubblicità e come come vi muovete su quel campo lì su quello me ne occupo io all'inizio ho giocato diciamo la cosa fondamentale secondo me era di conoscere ogni social i social più usati cioè Instagram in Italia Twitter per gli stranieri e adesso va molto di moda Telegram e TikTok adesso anche TikTok ok però non abbiamo mai puntato molto su TikTok solo ultimamente e niente mi sono studiato solo un po' come crescere molto velocemente ho usato delle strategie che adesso non funzionano più perché ormai sono state usate fin troppo tipo tipo io pagavo delle pagine cercavo di fare dei reel o dei post divertenti senza però facendo capire che cosa facciamo di lavoro di mestiere e quindi la gente anche le persone quello che ci ha aiutato molto anche le persone che non l'accettavano che insultavano sotto i post ci hanno fatto andare virali diciamo i reel certo quindi crescevamo di 5 10.000 persone alla volta adesso non funziona più purtroppo quindi ho dovuto trovare un'altra cosa però questo ha fatto sì che portando 10.000 persone su instagram comunque vedevano tutti il nostro sito holyfans certo come su altre piattaforme come su twitter c'è un'altra strategia come su tiktok c'è un'altra strategia devi sempre stare al passo con i tempi ecco diciamo e poi ci ha aiutato molto appunto che abbiamo iniziato per primi perché se avessi iniziato adesso già instagram è quasi impossibile crescere ma facendo una mappatura delle vostre piattaforme cioè voi avete tutti i social più i social dedicati al porno come vi muovete su ogni piattaforma mi dicevi tiktok instagram sono le piattaforme dove un po' vi pubblicizzate e magari avete il rapporto più diretto col pubblico instagram forse le social migliore per fare questa cosa qua sì per quanto riguarda invece i guadagni da dove arrivano da holyfans della prima piattaforma e gli altri siti porno come li utilizzate gli altri siti porno sono secondari ma c'è proprio un netto distacco di incassi cioè abbiamo un altro sito francese che è simile a holyfans meno completo che si chiama myfans che faremo sia 500-600 euro al mese ma non lo pubblicizziamo neanche ok è solo perché l'abbiamo aperto prima di holyfans questo mese o due l'abbiamo conosciuto giusto un po' prima quindi poi l'ho tenuto sempre aperto anche perché ho sempre avuto comunque anche se avessi due abbonati farei comunque lo stesso contenuti perché quelle due persone devono hanno pagato devono vedere quindi cerco di tenere ovviamente non si possono fare le stesse cose perché è un po' più limitato ok però comunque c'è chi sceglie anche quella piattaforma piuttosto che holyfans e poi a livello di incassi guadagniamo molto anche sulle pubblicità altri content creator che vedono i nostri risultati quindi vogliono pubblicizzarsi sui nostri social ok mi pagano ah vi pagano per utilizzare il vostro instagram per una storia per il nostro canale telegram qualsiasi cosa oppure ci occupiamo di pubblicità anche di brand o cose del genere su telegram o su instagram ok quindi avete anche rapporti con aziende che diciamo pubblicizzano prodotti sì poi beh c'è anche pornhub che comunque si guadagna più o meno una cifra simile dalle visualizzazioni che alla fine lo usiamo come una vetrina pornhub nel senso io non ho mai cancellato tutti i primi video che abbiamo fatto perché vabbè ci sono anche affezionata ci saranno una ventina di video che sono i primi primissimi che abbiamo fatto bruttissimi però sono affezionata e poi ci sono tutti i trailer diciamo dei video quindi viene utilizzata come vetrina di OnlyFans cioè ti faccio vedere cosa facciamo però poi vieni sul nostro OnlyFans esatto sì 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 ma anche perché come ti dicevo noi allora secondo me in questo ambito come in tantissimi altri ambiti se non sei disposta ad investire una parte di soldi e a rischiare non puoi crescere è impossibile devi investire bisogna investire perché altrimenti non hai un margine di crescita una parte dei nostri soldi va sempre in investimenti per il nostro canale oltre a quelli vabbè comunque che stiamo pensando poi di fare nella nostra vita però proprio per il canale ti parlo e l'investimento può anche essere prendere una suite a Barcellona quello è comunque un investimento dove si spendono quindi io non potrei mettere i contenuti gratuiti primo perché comunque Pornhub mette dei video gratuiti perché hanno già loro degli sponsor hanno le pubblicità hanno comunque qualcuno che li paga nessuno lavora gratis certo e noi comunque spendiamo veramente una grossa parte delle nostre cifre per poter portare contenuti migliori perché se no farei solo video chiusi in casa come i primi che ci sono su Pornhub senza poter mai portare una cosa diversa mentre noi siamo andati anche l'estate solo l'estate scorsa siamo stati due settimane in Grecia abbiamo portato qualsiasi tipo di contenuto mentre eravamo lì quindi la nostra vacanza è sempre un mezza giornata lavorativa e un'altra mezza giornata a volte anche di più di una giornata quindi quando noi sappiamo che siamo realmente una vacanza non la facciamo da da anni non puoi mai staccare diciamo che avete la scusa di viaggiare cioè lavorando viaggiate anche ecco mettiamola così però tu immaginati di non poterti mai staccare dal telefono non puoi mai smettere di fare contenuti o meglio potresti però comunque sai che non sarebbe il tuo il tuo dovere è quello di creare contenuti quindi poi rischi anche poi di calare cioè devi sempre restare sul pezzo sotto quel lato comunque ci va ci va bene che comunque ci piace tanto quindi non ne abbiamo neanche il bisogno di staccare quindi no io cerco magari di fermarlo un attimo perché lui è veramente una macchina da guerra ma almeno un giorno la settimana di trovarci un pomeriggio per un pochino di stacco perché se no è diciamo un po' pesante dover almeno quelle due tre ore in cui posso mettere via il telefono per un attimo e fare qualcosa che mi piace sì perché lavorando sui social network immagino che si è sempre attaccati al telefono per una cosa o l'altra sì 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 e questa cosa è diciamo la parte peggiore del vostro lavoro no non è neanche peggiore la parte peggiore del nostro lavoro probabilmente è il trovare lo stesso dei momenti per se stessi che comunque noi riusciamo lo stesso a trovare perché vabbè comunque perché la nostra coppia è fatta così sì non l'abbiamo esplicitato ma voi due siete siete fidanzati questa cosa qua diciamo inficia nel fatto che sì fate contenuti insieme ma poi i contenuti sono finalizzati una cosa sì la vostra coppia è un'altra quindi anche solo prendere fare una passeggiata o passare un pomeriggio insieme trovare anche dei momenti intimi solo per noi due forse è quella la parte più difficile che se diciamo che due anni fa quando abbiamo iniziato un pochino non so ci sono state delle settimane perché non te l'ho detto ma quando abbiamo iniziato su instagram anche ricevevamo richieste di contenuti personalizzati privati tutti i giorni tutti i giorni cioè una cosa pazzesca persone disposte a pagare per ogni singolo contenuto sì beh ovviamente il prezzo che si pagava rispetto a quello di adesso non ha niente a che vedere noi chiedevamo 20 euro per un video e cosa facevate nel video? quello che ci chiedevano di fare cioè mi diceva magari devi vestirti in un certo modo voglio una scenetta fatta che avevate un rapporto cioè un singolo rapporto per soli 20 euro diciamo? sì 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 all'inizio sì perché vabbè per noi il valore di quello che avevamo fatto alla fine in realtà se ci pensi un video era circa una decina di minuti 20 euro in 10 minuti non fai da nessuna parte no c'è lavoro di montaggio e tutto il resto che poi non si vede mai dietro sì 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 però vabbè comunque a noi andava bene così in quel momento quindi ce la facevamo delle settimane in cui dovevamo farlo solo per altre persone sì per esempio e quindi questo che diciamo sacrifica un po' la tua giornata ma a livello di coppia invece com'è gestire questa cosa qua? a noi ha migliorato tantissimo la coppia in realtà ancora di più primo perché non ci annoiamo mai anche perché abbiamo sempre qualcosa di diverso da fare impegni diversi possiamo sperimentare noi stessi delle cose per la nostra coppia e contemporaneamente farle anche per il canale quindi secondo me è un problema abbiamo anche sperimentato diciamo avere anche rapporti con terze persone grazie al porno cioè attraverso il porno sì perché era molto più facile se tu sei in questo ambito allora diciamo che quando hai pochi follower trovare una terza persona è molto difficile è veramente difficile abbiamo fatto mesi a cercarle noi perché comunque avevamo pochi follower tra virgolette non ti caga nessuno sì non davate vetrino sì 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 e volevamo farlo giusto per cioè anche per divertimento nostro per una cosa nostra da provare però a meno che non fosse già una content creator una ragazza normale in Italia però in Italia perché all'estero è molto più facile perché ti viene a dire sì sì io lo vengo a fare con voi due cioè ti guardo e ti dico in te sei scemo immagino invece adesso che hai i numeri sui social ti scrivono direttamente loro ma vi ha mai chiesto di pagarvi per poter fare un video con voi? tutti i giorni allora i uomini sì tutti i giorni però 50 volte al giorno anche ragazze però non te lo vengono a dire proprio direttamente ma fate e fate anche questo tipo di sponsor voi? no 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 quelle cose lì non le facciamo cioè a noi ci piace comunque cioè alla fine non so come lavora non so com'è cioè non la conosco quindi non mi va di sponsorizzare qualcuno che non so come ok cioè non ci metto la mia faccia per sponsorizzare la terza persona con cui lavorate è sempre un altro attore che diciamo viene a lavorare con voi sì che sappiamo no beh dipende anche ci è capitato alcune volte ragazze normalissime sì che non erano dell'ambito del porno e fanno solo quel video e basta magari? sì hanno la perversione di di fare un video tipo adesso ultimamente l'abbiamo fatto con una signora di ragazza di 34 anni sono applicata la perversione di fare un video ok sì sì e poi beh comunque dalla parte maschile si propongono tutti i giorni tutti i giorni più volte al giorno ormai non so neanche più come contarle però comunque sta di fatto che fare un video non è così semplice noi prima ti dicevo fuori onda che facciamo le cose one shot non facciamo mai la stessa scena due volte però all'inizio non era così all'inizio sbagliavamo in quadrature non trovavamo la posizione giusta non si vedeva niente e poi mi si vedeva la faccia e poi non si vedeva quello tante ore perse a rifare tante ore perse a rifare d'inverno poi devi farle entro le 4 al pomeriggio pagare la luce esatto però lui lavorava e io avevo le azioni da seguire quindi comunque non è non è stato semplicissimo l'inizio adesso siamo abituati quindi sappiamo diciamo anche adesso in realtà è difficile perché a volte facciamo vogliamo fare dei video in cui vogliamo fare una certa inquadratura ma non riusciamo a farla o non viene come l'avete immaginata o non viene come l'abbiamo immaginata sì perché più che altro poi quando prendi anche un po' spunto ti fai delle idee dici cavolo ci dovrebbe essere una terza persona che ti dovrebbe riprendere però bene o male cerchiamo sempre di trovare una via di mezzo una soluzione perché voi fate solo video amatoriali non avete mai avuto nessuno che vi filmasse da dietro che facesse il ball cameraman no ma anche perché credo non riusciremo ok no non riusciremo però abbiamo ampliato tantissimo il nostro rapporto di coppia ci fidiamo completamente l'uno dell'altro il telefono alla fine è uno strumento di lavoro quindi chat cose social cioè è diverso ti devi fidare completamente della persona con cui stai questo sì credo che non sia neanche forse una cosa per per una persona che non è pronta è una scelta sicuramente particolare nel senso secondo me dipende dalle attitudini che si hanno e da quello che si è disposti a mostrare sui social perché poi c'è chi non ha i soldi non ha instagram chi pubblica le foto chi è disposto a far vedere cosa fa durante la giornata sì 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 o altri contenuti come voi durante il sesso quello dipende secondo me poi dall'attitudine di una persona sì 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 ma invece sono interessato dal punto di vista formativo cioè voi diciamo avete studiato qualcosa è stato un incrementare man mano che facevate video riguardandovi riguardavate è stato tutto un fai da te abbiamo riguardato sempre i nostri video ci siamo documentati anche molto da Pornhub ad esempio guardando altri video anche di professionali e vedo male diciamo ci siamo arraggiati poi man mano con gli incassi abbiamo avuto anche più fondi per investire nelle attrezzature quindi le luci i telefoni migliori quello ci ha aiutato anche molto sì non abbiamo mai usato una telecamera anche perché usare una telecamera vorrebbe dire anche comprare un microfono e poi dover avere un computer potente per indirizzare il video e inizia già ad essere una cosa troppo professionale per i nostri gusti quindi in realtà con col telefono si può fare tutto tipo col telefono ci metti vent'anni a fare un video cioè non possiamo e non ha ma non ha neanche senso perché conta che la maggior parte delle persone che usufruisce di questi contenuti li guarda dal telefono quindi ok la definizione ok l'audio però alla fine quello che cercano le persone più che quello che vedono ho notato è anche quello che il contorno certo quello che percepiscono tantissime volte noi scriviamo una storia prima di un video quindi magari nel video in sé non ci sono tanti dialoghi non ci sono tante scene strutturate perché noi non siamo molto da dialoghi e strutturazioni però quando io poi mando il video lo pubblico è che ci scrivo tutta una storia sotto quindi è quello secondo me è anche una cosa che piace tanto immedesimarsi nel video nella persona nella storia di quello che sta succedendo tipo varie perversioni come il vicino di casa il professore quelle cose lì ma ci sono tante persone che vi chiedono cose strane tantissime cioè quando dopo che entri in questo mondo qua ti si apre un mondo veramente capisci che non c'è un limite parallelo anche perché di solito le persone che te lo vengono a chiedere cioè le cose più strane o perverse te lo vengono a chiedere quelle persone che non lo dirassi mai cioè giacca e cravatta medici carabinieri gente dell'esercito politici cioè esempio no persone che non l'avresti mai detto cioè sembrano tutte giacca e cravatta e poi dietro fanno le peggiori cose ditemene una allora è tipo pochi giorni fa allora io faccio anche cose tipo le cam in live no ok tu da sola sì 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 anche insieme le facciamo però insieme è già un po' più difficile prendiamo gli appuntamenti perché sennò sarebbe un po' difficile da gestire quindi quando spesso stai facendo una cam ti chiedono di vestirti in un certo modo di dire delle determinate cose o di fare una cosa che a loro può piacere allora una volta mi è capitato di questa persona che aveva paura di scoppiare i palloncini lui gonfiava cioè lui mentre si stava toccando lui gonfiava i palloncini e poi li faceva esplodere cioè lui si masturbava intanto gonfiava e scoppiava dei palloncini sì e io dovevo dirgli no tranquillo non ti preoccupare non succede niente ok poi dobbiamo fare una scena che io sono a tavola con i miei genitori e poi finiamo con mia madre ok quindi ci sono delle cose che vanno proprio oltre ogni limito ogni limito è normale sì sì ma tu non cioè persone che magari sai anche chi sono su instagram vedi la foto e dici ma sì è normale cioè non lo diressi mai oppure adesso fammi pensare cioè ce ne ho talmente tante tipo quella del formaggio sì come è stato una noi praticamente quando abbiamo iniziato proprio all'inizio è stato il nostro primo video personalizzato ah ok fantastico ci è arrivato a questo video personalizzato con un papiro di roba in inglese in inglese perché qua era il ragazzo straniero e niente noi praticamente dovevamo andare al supermercato comprare tre tipologie di formaggio che adesso non mi ricordo ok le tipologie era tipo la fontina l'emmental e la crescenza boh sia una roba simile e niente posso già immaginare vai cioè dovevamo tagliarle a fettine sì ok io dovevo essere nudo e dovevo sì è duro ovviamente e dovevo mettere cioè lei mi doveva mettere queste fettine di formaggio sopra adagiarle ok e poi chiuderle con la plastica con la pellicola con la pellicola e aspettare che si sciogliesse col calore umano con il mio calore è stato difficilissimo mi raccomando non fatelo al microonde perché se no me ne accorgo va bene quindi col calore delle mie mani e il calore suo però nel frattempo dovevi anche cioè stare duro no capito tu come fai non potevi toccarlo cioè nel senso era tutto un'altra persona x io ho detto che lui era una macchina da guerra un'altra persona non ci sarebbe mai riuscita e io poi dovevo srottorarlo e praticamente leccarlo a lui mangiandolo tutto che poi ce ne ho mangiato talmente tanto che veramente avevo la nausea è stata particolare tutto questo per 20 euro per 20 euro fantastico poi ci hanno forgiato per le situazioni sì beh adesso forse primo video personalizzato cosa c'è qua fuori traumatizzante veramente oppure avevamo magari anche persone che ci facevano fare delle quasi tipo delle serie un video dove c'era una certa situazione e poi ne volevano altri perché gli piacevano e quindi era tipo una cosa puntata di un susseguirsi no che veniva così fai da te sì 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 esatto poi aspetta magari fammi pensare ad altre cose strane di tutte le tipologie comunque ci sono anche delle persone che ti chiedono che vogliono una determinata cosa cioè tipo ti devi comprare le collant 8 denari ah vogliono i vestiti particolari per forza 8 denari perché se ne 10 non va bene 8 ok quindi devo andare oppure devi avere lo smalto bianco sui piedi però con lo smalto bianco specifico del cioè queste cose qua che percentuale diciamo dovete dire di no di queste richieste cioè sono tante richieste quindi dovete dire di no no non tantissime solo quando si parla di escrementi o cose estreme che c'è come metterli in mezzo genitori o altre cose sì no ma poi molti non capiscono che cioè noi non viviamo con amiche o amici cioè nel senso molte ci dicono ah puoi farmi un video non lo so ho dieci minuti liberi adesso voglio che che fai un lesbo con una tua amica perché io giustamente vivo con una mia amica e pronta a fare il lesbo con me esatto cosa assurde proprio poi però gli dici eh guarda cioè mette insieme il tempo l'organizzazione il fatto cioè gli dici che ne so sono 200 euro ah no allora no allora no quant'è il prezzo ora per un vostro video personalizzato base ok poi immagino ci siano vari allora base 50 dollari eh è una tipologia di di video che è proprio basic basic poi diciamo senza ehm masturbazione cioè diciamo un video mio basic che può essere strip ah un balletto diciamo erotico ma non porno ok esatto o tipo la tipologia joy non so se sai qual è no non sono molto esperto praticamente devi cioè il joy vuol dire jerk of control quindi io devo avere controllo su di lui ok attraverso un dildo ok quindi in realtà non vengono io non mi spoglio neanche completamente quindi su quello andiamo sui 50 ma lo chiedono maschi o femmine queste cose qua i maschi sempre sì lui ogni tanto ha dovuto fare dei video sia per maschi che per femmine ah c'erano anche femmine che qualcuna sì qualcuna sì o tipo ah vabbè ma scusa il solletico ah quella madonna quelli che rider ci chiedono ci è capitato tipo che dovevo fargli il solletico sotto ai piedi con una forchetta cioè cosa assurdo bellissimo anche col cucchiaino non mi ricordo ma ce l'ha anche il suo contatto praticamente poi ci sono anche gli schiavi chiaramente cioè ci sono c'è proprio gente che gli piace spendere soldi cioè no quelli sono i monesleeve no scusami gli schiavi sono persone a cui piace essere derise insultate umiliate vogliono che gli dici sei un coglione quindi tu fai il tuo video hard mentre dici lo faccio anche in live a volte ok oppure faccio il video li devi insultare pesantemente io chiedo sempre però tipo che tipologie di insulti ti piacciono ok certo no perché io non lo farei non è una cosa che mi viene tanto naturale da fare quindi chiedo sempre prima che tipologie di insulti che ti piacciono di solito magari hanno il membro molto piccolo le persone a cui piacciono questa tipologia di cose vogliono essere umiliati ok e mi è capitato anche magari in live di persone che si fanno del male perché sono eccitate per quello che gli sto dicendo davvero tanto del male tipo cucchiaino sulle palle ma scusa ma voi non vedete cosa c'è al di là della live? quello lo vede lei di solito perché tu fai live ah fai live personalizzate videochiamata non tipo live di Pornhub dove tu sei live no 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 videochiamata privata ah ok io stavo capendo live tipo quelli di Pornhub no quelle le facciamo su OnlyFans ok le facciamo io e lui su OnlyFans dove uno magari se paghi 20 euro mettiamo si spoil quelle cose lì sì 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 noi la facciamo le facciamo su OnlyFans ah tu sei proprio in videochiamata con l'altra persona e fai quello è una cosa che chiedono cioè per dirti io ho dovuto un po' aumentare il prezzo perché sennò avevo talmente tante persone che me le chiedevano che non riuscivo a starci dietro pensate idem i video personalizzati stessa cosa ho dovuto un pochettino aumentare ma anche perché sennò dovevo aspettare una settimana per un video e poi comunque vabbè c'è anche il valore della persona che ti sta facendo però scusate ti chiedo ma l'avere un rapporto diretto con quella persona lì che effetto ti ha fatto la prima volta ho pianto sì la prima volta è stata una cam di coppia anche io mi sono trovato un po' in imbarazzo cioè nel senso c'eravate voi due in videochiamata con un'altra coppia con un'altra persona che ci stava guardando perché io e lei dobbiamo davanti a lui io vedere sto faccione che mi guardava dicevo a me non mi andava su perché dicevo cazzo cioè perché vedo sto faccione enorme che mi guardava è un po' strano eh sì certo lei era tutta lei un po' cioè lei era un po' sensibile prima si era messa a piangere è perché dovevo scaricare la tensione piangendo no ci sta e poi dopo un po' diciamo ho iniziato prima facendo un po' le chat quindi la chat mandando delle foto dei video rimane più impersonale e poi a un certo punto quando mi sono sentita pronta solo con persone con che diciamo conoscevo già perché ci seguivano da un po' di più ero un po' più a mio agio ho iniziato a farle adesso ormai adesso faremo di tutto no ormai adesso sono abituata siete delle macchine è proprio è abitudine è questione di abitudine è questione di abitudine sì immagino e quindi cioè ti chiedono veramente qualsiasi tu capisci che non hanno limiti i fetish chiamali così ci sono tante persone che ci chiedono delle cose che sono oltre i nostri limiti ma sono oltre i limiti secondo me di tantissime persone perché li vedono nel porno professionale sì e cioè nel senso io non posso andare a fare le gangbang nel senso cioè non fa parte di te tu ricom... non fa parte di me però per loro tu fai videoporno con il tuo fidanzato quindi devi fare qualsiasi cosa e non hanno un limite di richieste tu inizi a dargli una mano vogliono il braccio vogliono tutto quindi noi cerchiamo comunque di dare un limite cioè di far capire che un limite c'è perché alla fine noi siamo persone ma tu quando fai le live cioè sei da sola magari non hai lui di fianco che senti il suo sostegno morale no no cioè all'inizio magari no 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 ma quello no ma anche perché tanto non so spiegarti a parte che potrebbero sentirsi dei rumori nella stanza e quindi io le faccio sempre da sola però quando le facciamo poi in coppia coppie comunque non le facciamo tantissime praticamente le facciamo solo a persone che ci seguono da tantissimo e che cioè sappiamo perché il problema delle live di coppia è che loro pensano che tu e se che io e lui siamo due bambole gonfiabili che possono girarsi e fare un po' quello che vogliono loro però il problema è che sei un essere umano eh certo se tu mi dici fallo venire così magari lui non viene se io faccio così però vai a farglielo capire che è una persona sì quello è molto difficile perciò noi le facciamo solo con persone sappiamo che alla fine è tipo uno show io devo fare quello che piace a me anche perché se no la mia prestazione non esiste è artificiale quindi tipo cioè il professionale è tutto un artificiale ma le persone immagino che cioè gli piace anche vabbè voi per quanto riuscite a renderlo professionale il fatto che rimanga amatoriale sì piace proprio anche il fatto che siamo due ragazzi normalissimi potrebbero incrociare per strada la famosa ragazza della porta accanto cifre come le nostre non li fanno neanche pornatori praticamente cioè cifre di numero cifre in danaro sì 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 ok no vabbè magari qualcuno di tanto famoso sì però devi essere veramente tanto famoso in più devi fare cose cioè veramente ma posso chiedervi a quanto quanto fatturate sì scegliamo tra i 45 e 55 al mese al mese sì dipende poi dal mese chiaramente adesso questo mese magari questi mesi sono un po' più difficili perché chiaramente le bollette si sentono per tutti certo quindi vabbè ci sono alti e bassi come sì perché poi fai uscire forse un video un po' più particolare un mese quindi fai 55 mila un mese sì poi magari c'è la persona disposta a pagarvi tanto per un singolo contenuto un mese no però comunque sei sempre costante l'importante è essere costante in questo lavoro ok mi leggo a questa domanda per dirvi che qualche anno fa era scoppiata un po' il caos perché OnlyFans aveva deciso di stoppare questa cosa qua no sì è stato molto divertente quella settimana eh immagino voi se domani chiude OnlyFans era come ora la più famosa ma ce ne sono altre famose comunque meno usate che comunque hanno preso molto piede nella settimana di quando ci è arrivata quella famosa email che loro si sono resi conto della cavolata che hanno fatto e hanno dopo neanche due giorni ci hanno detto subito no no ragazzi è tutto come prima perché tutti si spostavano di là e giustamente se io vado a dire a quelli che mi seguono ragazzi guardate che mi sposto su questa piattaforma basta ma non tu ti dirà sì l'importante è avere tanti numeri sui social e anche quello in tu ovunque puoi puoi indirezzare delle persone su un sito piuttosto che un altro quella settimana lì è arrivata questa email quindi nel giro di una settimana quasi tutti noi compresi ovviamente si erano aperti un altro sito perché ce n'è veramente tantissimi tipo OnlyFans cioè solo che sono meno famosi e nel giro di una settimana penso che loro abbiano visto i loro incassi praticamente dimezzarsi ma questo problema l'hanno avuto anche quelli di Pornhub che non si potevano più fare i malagamenti con Mastercard e Visa perché era quello il problema il problema è pagare con Mastercard per un video porno ok cioè Mastercard il circuito Mastercard si era tirato indietro perché erano usciti dei giustamente da un lato scandali non c'erano non c'erano controlli sulla piattaforma quindi c'era gente che caricava video di altre persone e quello giustamente per gente che investiva non era una bella cosa adesso ci sono tante comunque limitazioni per i fans ci sono tantissime tipologie di video che non si possono fare e tipo usare oggetti tipo sangue tipo dormire cose cioè queste cose qua non te le fanno caricare te le tolgono in tempo zero che comunque cioè è giusto alla fine ci sta devi anche tutelarti loro non l'avevano fatto quindi non avevano trovato qualsiasi ogni tipologia di video era un po' una giungla OnlyFans come ogni piattaforma che poi pian piano nel tempo con internet si è un po' ridimensionata e quindi nel giro poi di una settimana non hanno neanche dato delle scuse né niente e hanno detto no ok le nuove linee guida dispongono anche che tu puoi fare quello ok anche perché principalmente OnlyFans è nato per content creator tipo chef di cucina per lo sport però i soldi che girano sia rapidamente i soldi che girano sono del porno sì sì loro penso che il loro main business sia per il porno perché OnlyFans è nato se non sbaglio come modo per essere più vicino alla persona che seguivi di qualsiasi genere fosse è sempre questa cosa di pagare per avere dei contenuti esclusivi quindi poteva essere il contenuto esclusivo può essere qualsiasi però come diceva lui prima noi magari guadagniamo di più di una pornostar ma non è perché è perché su OnlyFans girano tanti soldi è come dire qui che un giocatore di basket in Italia guadagna meno di uno di calcio è perché semplicemente nel giro di quelli del calcio girano molti più soldi certo quindi non è per il fatto di quello che fai magari è cioè magari ci sono delle ragazze più conosciute di noi che fanno la metà di fatturato no 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 che magari fanno il doppio del fatturato e fanno la metà delle di quello che facciamo noi perché magari non fanno neanche porno ok e però sono ragazze conosciute se ci sono delle persone disposte a pagare evidentemente il mondo va così certo se c'è un mercato è giusto che qualcuno colmi l'offerta in America c'è gente che guadagna milioni di dollari al mese e forse fa vedere solo le tette io glielo dico sempre adesso ora come ora non ha senso iniziare cioè o sei già qualcuno di conosciuto però sei molto rischioso perché ci sono stati anche degli episodi di persone che hanno iniziato a farlo e poi sono state licenziate perché sono state scoperte dai datori di lavoro cosa fai vai a rischiare un qualcosa cioè vai a rischiare il tuo posto fisso per cosa cioè alla fine un conto guadagnassi già 10, 20, 30, 40 mila euro al mese più che altro poi le persone non capiscono che non è che sono in tanti a guadagnare cifre così grosse cioè in Italia saremo una decina bene o male però anche abbiamo tantissimi follower se non li avremmo mai fatti e più che altro è che non puoi farlo per tutta la vita non sai per quanto lo potrai fare cioè se non fai grosse cifre ma veramente grosse cioè anche io e perché conta che tu ok guadagni 50 però tu ha 45, 50 anni smetti no? sì mi avete anticipato la domanda quindi devi investire tantissimo su te stesso cioè noi dobbiamo lavorare tantissimo adesso per questo che ok quindi vi state già mettendo da parte dei soldi per quando saprete che non vi pagheranno più per fare quei contenuti stiamo facendo già degli investimenti tipo noi ci stiamo facendo costruire una casa ultramoderna sia per i contenuti futuri e poi che ha ha un valore che poi rimarrà nel tempo certo costa tanto come casa però è un investimento è un investimento come anche quello di investire tantissimo adesso cioè io so che adesso posso guadagnare 45, 50 al mese io finché finché posso io devo guadagnare queste cifre perché mi servono come cuscinetto per il futuro cuscino per investimenti futuri per investire nell'immobiliare per investire in cose che poi una volta che io smetterò di fare questo questo lavoro avrò a parte a parte avrò dei soldi avrò fatto degli investimenti che mi faranno stare tranquilla nel mio futuro io come dico sempre a lei facendo cifre così grosse dopo anche 5 anni potresti smettere cioè nel senso dipende che stile di vita vuoi fare noi siamo molto semplici come ragazzi però è sempre giusto pensare negativo cioè io preferisco lavorare tanto adesso poi se potrò lavorare ancora per 15 anni ben venga ancora meglio ma voi che prospettiva vi date futura di quanti anni secondo voi durerà ancora diciamo questa cosa qua allora il porno non morirà mai no no non dico il porno dico voi due che poi cioè invecchiate magari ci sono delle persone cioè senza nulla non ne vuole essere no no ma in realtà secondo me quando inizia ad essere MILF potrebbe essere che i guadagni potrebbero essere uguali ok anzi forse anche di più può capitare perché ci sono già adesso cioè la categoria è una delle categorie più cercate alla fine ci sono anche delle pornostar che hanno comunque ormai raggiunto una loro età ma che sono delle bellissime donne che continuano a lavorare anche adesso e che devi investire tanto su te stesso non solo a livello monetario ma a livello interpersonale cioè devi curarti la tua pelle sì anche a livello fisico a livello fisico poi noi ci è andato anche molto bene che abbiamo iniziato giovani cioè abbiamo 25 di anni quindi hai voglia prima che invecchi comunque no certo il tuo fisico resta se ti mantieni bene si poi conta che noi non fumiamo non beviamo l'unica cosa che abbiamo è che mangiamo al ristorante cioè ci piace andare a mangiare fuori però io poi sono quasi vegana per dirti cioè nel senso a livello salutare diciamo non abbiamo particolari problemi però vi tenete magari andate in palestra fate determinate cose per tenere il vostro fisico allora palestra adesso dobbiamo iniziare perché tra i viaggi il lavoro e tutto il lavoro come ti dicevo ci toglie tantissimo quindi tu magari ti svegli la mattina devi rispondere a 50 chat e poi dopo due ore ce ne sono altre 50 e dopo due ore ce ne sono altre 50 ah prima mi dicevi ti devo fare la mia giornata tipo non me l'hai fatta mi fai la tua giornata tipo allora la giornata tipo dipende chiaramente dalle giornate però abbiamo delle giornate in cui magari facciamo un'offerta magari particolare su sulle fans o come ti dicevo magari io mando il messaggio ciao sono libera per cam ok vuol dire stare la prima cosa che facciamo è ci alziamo guardo il telefono guardo quante chat ci sono quanti abbonamenti sono entrati quanti acquisti hanno fatto per capire se la notte è anche andata bene dopodiché rispondiamo a tutte le chat mentre facciamo colazione finita la colazione poi inizio a fare tutti i contenuti per i social quindi per tiktok per instagram per twitter quello che si deve fare poi o facciamo contenuti cioè privati personalizzati oppure so che dobbiamo fare un video per il canale noi cerchiamo di fare sempre video nuovi cioè dobbiamo sfornare video nuovi sempre perché comunque sono sempre più video che poi si possono anche rivendere certo poi magari adesso ultimamente almeno una volta alla settimana dobbiamo andare podcast cose televisione che magari si sovrappongono durante la giornata dobbiamo andare a Milano poi c'è il commercialista c'è l'azienda ci sono da fare le fatture poi la parte del pomeriggio io cerco di ritagliarci almeno due tre ore di studio che diciamo l'ultima sessione che è stata quella di settembre sono arrivata a studiare di notte perché di giorno io non avevo tempo di vivere e basta la sera poi c'è sempre questa cosa cioè si rispondono i messaggi poi magari durante la giornata c'è qualcuno che mi chiede ciao mi puoi fare questo ciao mi puoi fare una chiamata possiamo magari lo incastri tra i vari impegni esatto e arrivi alla notte e arrivi alla sera rispondi a tutti i messaggi la sera poi io di solito magari faccio altri contenuti per altri social e niente questa notte si va a letto e quanto ci mettete a fare un video? dipende dipende dal video un video un video classico diciamo di un rapporto mezz'ora 40 minuti se è un rapporto classico normale vagina pene una mezz'oretta di preparazione cose se bisogna fare dei video già più complicati dipende una volta ci abbiamo messo quasi tre giorni per fare un video madonna cosa avete fatto? eh perché era un video molto particolare e io non ero cioè le pornostar hanno dei trucchetti per fare certi video che io comunque non posso fare perché io non sto un giorno a digiuno per fare un video loro invece sì poi ci sono anche delle altre cose da fare però comunque se non sei abituato a fare certi video che magari sono cose un po' più estreme dopo un po' che vai avanti ti devi fermare perché non ce la fai cioè perché è impossibile quindi noi c'era questo video l'abbiamo fatto due ore poi l'abbiamo smesso poi abbiamo ripreso il giorno dopo altre due ore poi abbiamo ripreso il giorno dopo e finalmente l'abbiamo finito e quindi per video un po' più complicati magari ci vuole anche un'oretta un'oretta e mezza tra poi ti devi fare la doccia ti devi lavare di prendere i vestiti dipende dalla tipologia di video ok ed è fisicamente stancante? no no quello no però adesso non la sentiamo la stanchezza ma perché conta che comunque dipende sempre dalla tipologia di video però noi non facciamo video che durano un'ora cioè arriviamo a video di 20 minuti poi ok secondo me il trucco è non far mai morire la voglia sì cioè aver sempre quell'interesse anche mentre facciamo i video comunque ci sono cioè noi lo facciamo con voglia cioè ci piace sì 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 se morire quella sensazione lì allora sì e riuscite a unire l'utile e il dilettevole di coppia cioè a fare un video per diciamo lavorativo e legarlo a un rapporto vostro intimo sì 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 conta che però comunque è sempre un video cioè hai sempre il telefono in mano o un telefono che ti riprende che non cioè per dirti io e lui poi nel nostro intimo siamo molto basic sulle posizioni perché già dobbiamo fare minchia le capriole quindi nei nostri momenti facciamo posizioni che non facciamo mai durante i video perché non si vedrebbe niente però le nostre posizioni classiche le facciamo e cerchiamo come ti dicevo se non tutti i giorni almeno ogni due giorni cioè di trovare comunque sempre dello spazio per noi cioè la parte di giornata dedicata a te ci deve sempre essere anche perché sennò è un po' più pesante lavorare così come dicevo noi non è che abbiamo un cartellino che tu alle 6 è timbrato finito basta non ne sai niente noi andiamo avanti fino anche a mezzanotte o ci sono magari dei giorni in cui facciamo un'offerta speciale su OnlyFans e giorni in cui inizi la mattina alle 10 stacchi la sera alle 11 e c'è lui che si stacca ad altre fa basta sì anche perché poi alcune volte hai cioè come quando ero al supermercato a lavorare sei a contatto con le persone quindi c'è quello educato c'è quello maleducato c'è quello pesante c'è quello meno pesante quindi dopo un po' io sono molto paziente cioè se lei allora lei principalmente risponde lei alle chat però io che gestisco Instagram è un po' vedi diciamo un po' le persone come sono anche a livello che ti stufano ti ti snervano certe volte ma a volte magari vi vi trattano un po' come degli oggetti cioè come delle macchine questa cosa la sentite? no quello no cioè io no succede ovviamente come ti dicevo nelle magari nelle live di coppia o magari nel video allora io uso il mio corpo per lavorare quindi non sono un oggetto ma non sono neanche totalmente me stessa perché altrimenti non sarebbe cioè comunque tu nel video stai recitando una parte certo quindi tu sei in quel momento un qualcosa che a loro dà piacere poi c'è quello che ti vede più come una persona e ti chiede come va la tua vita c'è quello che non gliene frega niente però non è una cosa pesante secondo me è una cosa del tutto totalmente normale cioè ma come può esserci che lavori al bar e c'è il cliente che vuole sapere come stai e c'è quello che non gliene frega niente vuole il caffè se ne va ok solo che la differenza appunto che tipo al supermercato io ti imbravo ho finito invece lì no invece lì non sai mai lì sei 24 ore su 24 però se ti piace se hai il tuo lavoro e ti piace ed è quello che scegli di fare è giusto secondo me che sia così perché comunque noi notiamo che tante persone che sono nel nostro ambito che non dedicano lo stesso poi magari si lamentano che non fanno certi numeri che si lamentano che non però bisogna anche impegnarsi nel proprio lavoro perché come in contutto se non ti impegni non guadagni certo e qual è la critica che vi viene fatta più spesso critica insulto dicono che OnlyFans non è un lavoro sì la classica la classica critica da persona media e basta OnlyFans non è un lavoro che io sono vabbè vabbè fossici cioè instagram è una cosa allucinante ma è quello secondo me perché semplicemente non è controllato io per dirti i commenti tante volte non vado neanche a guardarli ok no perché tanto sai già cosa so già ci sono due fazioni ci sono quelli che ti sostengono però magari quelli che ti sostengono non sono quelli che vanno a commentare sotto al post sono quelli che poi magari ti scrivono e ti scrivono su OnlyFans sì questa cosa la notavo con il mio collaboratore che dicevamo chi commenta è perché ha da dirti qualcosa e ha da romperti le palle le persone che sono d'accordo con te non te lo vengono a dire non te lo vengono a dire hanno tempo da perdere quindi c'è questa selezione avversa delle persone che si concentrano quelli che hanno da romper le palle è quello che io sempre ha detto a lei il bello di quelli che ti vengono a romper le palle o che ti insultano che lo fanno sotto i commenti non si rendono neanche conto che mi stanno dando una mano perché di solito quelli che la brutta pubblicità la cattiva pubblicità comunque anche se tu mi fai un commento mi va più virale il post quanti commenti brutti siano positivi belli brutti particolari qualsiasi commento comunque mi aiuta e non se ne rendono conto guarda i nostri contenuti più virali magari su tiktok o su instagram sono stati virali perché le persone avevano da dire qualcosa e da romper le palle ma ci facevano solo un favore perché poi va virale quella roba lì se tutti commentano io gli ultimi reel che sto facendo metto proprio gli faccio fare delle cose che istigan la gente perché la gente poi dopo sotto insulti io faccio una marea di persone guarda io ho un amico che ci ha fatto una carriera tiktok su questa cosa qua nell'essere provocatorio sì 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 devi un po' essere provocatorio perché comunque il post viene visto da più persone e poi in realtà di quelle diecimila richieste ci sono il tot di abbonamenti che poi su Alefanzo ti dico in realtà noi per fortuna forse rimanendo sempre molto semplici non abbiamo quasi mai nessuno che ci viene a rompere cioè capita veramente una volta ogni morte di papa quindi vuol dire che quello che sto facendo cioè quello che stiamo facendo lo stiamo facendo bene sì 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 ma anche perché devi essere doppiamente stupido per è successo però eh pagare per dirti ah non fate un cazzo e cancello l'abbonamento però sei doppiamente pirla perché mi hai pagato cioè si abbonavano solo per andare a vedere quanto cioè per criticarmi sì per scrivere giustamente quel commento stupido pensate dove si spingono le persone sì qualcuno è successo però non non ultimamente in realtà no quello no forse all'inizio quando era ancora un po' più tabù diciamo ci sono persone che ci dicono sì sai io sono di varie esee e ci raccontano le loro perversioni no ah ok si sentono aperti si aprono con voi sì tantissimo questo ho tantissime persone sia persone che conosciamo cioè io ho avuto persone che quasi come una sessuologa psicologa che mi raccontavano i loro problemi di personale di coppia o anche semplicemente fisici tipo io vedo che tu fai questo ma come fai a farlo ok è bella questa cosa qua sia persone che conosciamo di persona quindi i miei amici sia tutti i giorni persone su sullifans perché mi dicono sai io vorrei fare con la mia ragazza questa cosa qui però tu come fai a farlo perché ci chiedono dei consigli però è bello quando si creano queste community su me è bellissimo perché voi sdoganate una cosa no cioè fate vedere quello che fate e poi le persone poi si sentono autorizzate magari si fanno dei problemi cioè vi raccontano dei problemi che magari non direbbero nessuno che non saprebbero come affrontare sì 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 perché verrebbero giudicati perché verrebbero giudicati perché comunque c'è tantissima disinformazione sulla sessologia in generale cioè io stessa mi ricordo che quando lo facevamo alle superiori ma alle superiori che cosa te ne frega non lo devi fare in quel modo devi cercare di farlo in un modo che poi i ragazzi possano capire anche solo semplicemente sull'informarsi sulle malattie sessualmente trasmessibili sulle analisi queste cose qua sono cose che io ho imparato con il mio lavoro ma che cerco sempre di fare entrare le persone in quest'ottica che le malattie effettive esistono che bisogna farsi le analisi che prendere la pillola non è una brutta cosa cioè su tantissimi ambiti quindi nel piccolo poi ovvio non avete responsabilità però vi sentite anche portatori magari di certi valori che potete trasmettere sì 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 ma a me piace tanto poi magari ti chiedono anche quelle cose che non c'entrano proprio direttamente con il tuo lavoro tipo guarda devo fare un regalo alla mia ragazza tu sei una ragazza sì perché magari cioè voi facendo vedere una cosa tanto intima vi ponete magari come delle persone che poi si sentono no? si sviluppano un rapporto confidenziale cioè un rapporto intimo con voi si sentono in intimità insieme a voi ci chiedono tantissime cose anche sulla loro vita di coppia o magari noi abbiamo persone che ci scrivono tutti i giorni sappiamo che magari sono single che stanno cercando ragazza che allora gli chiediamo come stai come va o ci chiedono dei siti dove possono cioè mi dicono ma tu hai mai usato tinder e ti dico sì guarda però quello che abbiamo notato è che vanno molto di cioè di vogal i siti di incontri sempre di più eh ho notato anch'io soprattutto a nord europa mi dicono più che in italia noi in america l'abbiamo usato tantissimo in america c'è tutt'altro mondo erano le ragazze che scrivevano direttamente a noi ma l'avete usato per cercare cercare collaborazioni ok perché c'erano delle fighe pazzesche e c'erano proprio questi ragazzi che ci scrivevano cioè in italia non ci scriverà mai una ragazza quindi voi andando all'estero diciamo fate collaborazioni all'estero si sono più aperti mentalmente cioè lo vedi che è completamente differente diciamo che è anche più grande il suolo americano di quell'italiano quindi è anche più facile trovare persone che abbiano only fans che si poi è una città come New York che c'ha dieci volte abitanti di Milano a New York non ne abbiamo fatte ma diciamo per scelta perché volevamo visitare la città e avevamo anche tanto lavoro da fare quindi però quando siamo andate a Miami le abbiamo fatte le abbiamo trovate poi siamo andate anche in altre parti per adesso non lo so andiamo a Vienna vediamo se a Vienna troviamo qualcosa mentre i giorni è un po' dura però vediamo cioè una volta l'importante è raggiungere grossi numeri sui social una volta che hai raggiunto grossi numeri sui social fai quello che vuoi certo cioè dopo vivi di rendita su quello che hai fatto prima come un capitale monetario cioè tu ti crei il tuo bel salvadanaio poi dopo che hai i numeri puoi fare quello che vuoi tu sei un'azienda che vende un prodotto quindi ragioniamo in questo modo un'azienda che ha un prodotto un servizio che deve stare sul mercato e sì poi soprattutto se ti fai un nome già adesso meglio ancora io vi auguro tutta la fortuna grazie il miglior in bocca al lupo grazie e vi ringrazio di essere stati qui di avermi raccontato diciamo la vostra prospettiva che non avevo mai avuto e vi saluto grazie grazie grazie